Impegno costante da parte dell'ex provincia per migliorare la viabilità secondaria provinciale, facendo ricorso anche ai fondi del proprio bilancio. Così, con una delibera adottata con i poteri della Giunta, il commissario straordinario Salvatore Piazza ha deliberato la somma di 50.000 euro, oltre alla somma di 300.000 euro, già stanziata dall'assessorato regionale dell'infrastrutture, per consentire di mandare in appalto il progetto esecutivo relativo al miglioramento della sicurezza della circolazione nella strada provinciale 13 Beddio-Tresauro-Piombo e nella strada provinciale 14 Castiglione-Tresauro, e con l'adeguamento della sicurezza nell'intersezione fra le due. È stato deciso di fare ricorso ai fondi del bilancio dell'ente per migliorare la sicurezza di due strade ad alta densità veicolare nella viabilità secondaria provinciale. Si tratta, con menta piazza, di opere strategiche, la cui realizzazione è fondamentale ai fini del miglioramento della sicurezza stradale. L'assessorato regionale alle infrastrutture, che ha consentito di mantenere l'importo del progetto, è stato deciso di provvedere al cofinanziamento di 50.000 euro con fondi dell'ente. Solo dopo si procederà alla pubblicazione del bando per la giudicazione della gara d'appalto.